E dimmi qualche cosa, non mi fa stare sulle spine come Frenkie che non mi ha detto un cazzo. Senti tu, quando hanno detto che devi stare qua i dottori? Eh sì, no i dottori hanno detto che maga ho con la ventina di giorni. Saldo complicazioni. Aw Wow Come Karena Allora 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.